Attenzione! Immagini che potrebbero urtare la vostra sensibilità. Il presidente dell'autorità palestinese Mahmoud Abbas ha dichiarato tre giorni di lutto per il massacro dell'ospedale. Nella serata di martedì, 17 ottobre, un missile ha colpito la Lali all'Arabi Hospital di Gaza City, causando un'esplosione che ha devastato la struttura. I morti nel bombardamento dell'ospedale sono centinaia. Secondo il Ministero della Salute del governo della striscia di Gaza, guidato da Hamas, le vittime potrebbero essere tra 200 e 300. Un primo bilancio parlava di 500 morti. Non ci sono, al momento, dati definitivi. L'esercito israeliano ha negato di aver lanciato alcun attacco sull'ospedale. Dall'analisi dei sistemi in possesso dell'esercito, una raffica di missili nemici è stata lanciata contro Israele ed è passata vicino all'ospedale proprio quando è stato colpito. Secondo informazioni di Intelligence, la Jihad Islamica è responsabile per il lancio fallito che ha colpito l'ospedale. Le prime foto e i primi video che arrivano dall'ospedale mostrano scene raccapriccianti, con centinaia di corpi stesi al suolo, illuminato dalle torce nel buio della notte della striscia di Gaza, da giorni senza corrente elettrica. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un like e un commento con i tuoi pensieri. Il tuo feedback è fondamentale per noi. Se non l'hai ancora fatto, considera di iscriverti al nostro canale e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornato sui nostri futuri contenuti.